Musica 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 Headshot b***h Mi sono ancora caduti al mondo Ehm Ehm Dove 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 Pina? Davanti a te ce ne uno Non lo vedo Ti sta sparando eh Si ma non lo vedo Vieni giù Stefano, vieni giù Stefano salvato Vieni salvato Merda BASTA Dai dai Chi servono le piastre sono qua Occhio ste che magari può essere imballato eh Dove sei guarda via del passato Quasi qui Ehm Qua è stato imballato Buona qua Ah così proprio C'è proprio il violento C'è proprio il vincino C'è proprio il vincino Qua davanti Eh c'è lo sensore ah fuck se torno indietro della stazione di polizia c'era un sacco di roba, solo che non so se fai intanto ecco la sinistra albina no! sono nella stazione di polizia, ti stanno sparando un tot fuori pieno di roba mi metti a dire guarazzo però saluto mia mamma mamma da tutti eh? ok sei troppo lontano fino a mamma sei troppo lontano a terra mi chiami con quanto da chimelia porca droga no 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 Pirelli devo mettere in vicino a terra vittime ho messo la data io c'ercivo 8 della Ryanair ma siamo io David e B io David e B guarda che ha preso un'incorata della Madonna pure una mia amica che adesso costa del cuore a mezzo doveva andare a Madrid doveva andare Madonna devo abbassare l'accessibilità porca di quella puntata sempre quella Ryanair ok ma io ho pagato l'assicurazione di decarcelazione di Italia o del genere ma lei l'ha preso nel culo non l'ha potuto recuperare niente andiamo con la Ryanair oh no in lei non esiste nessuno che può colto il metodo ha preso il mezzo ha preso il mezzo lo arempi il vetro ah che mortacci sua merda ciao cazzo Dov'è? Eh cazzo! Tua sorella! Con le RPG! Devo ricambiarmi i tasti. Ma no no. 8-2! No! Figlia di po- Tastora con le RPG! Fa culo! Tasti di merda! Ma perché non spara? La palestra? Ma perché è una palestra? La tua mano! Ahah! Patatino vuoi giardino? Sì, e allora che fai? Io volo! Io la intrattengo e lei viene qua! Zitti, zitti! Poi, ma cosa è successo? Ma perché? No, ma vabbè, ma... Una scherante gas, ottimo! In questo gioco si può giocare solo in quattro giusto chi è venato. Eh? In questo gioco si può giocare solo in quattro giusto chi è venato. Trevato? Trevato? Sì. Ok. No, merda! Daffanculo! Ce l'ho fatta! Figlia di portare! Saldi, 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 saldi. Oh, oh, sento spara- Ah! Ce l'ho detto! L'ho andata non di cifondo. Merda! 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 Certo cazzo! Minターion... Lo scontro ha inizio! Prepara, sei il prossimo! Oddio! non dire mamma che quasi qualcuno su chiama due subito lancia la puttana c'era un altro dentro vaffanculo 30 secondi quanto l'aga la gente però dalle 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 a merda che fai morto che è morto era solo lui il compagno io l'ho ammazzato io l'ho vota vita 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 ho fatto ok potrebbe essere a destra guarda nooo il frattempo io dai chi dice cazzo bella grande stef 3 di seguito bella simo 4 4 di seguito guarda quello che ha operato lo spawn guarda quello che ha operato lo spawn un altro vado sul ponte a fare il zullo adesso un altro ce n'è uno qua di anno al suo spawn porco di eh eh quanti sono lì arrivo 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 mi ha visto eh morto morto arriva il vitro in testa a noi ragazzi ci sei stessa un po' qui in fondo io mica è pieno pieno abbiamo perso il comando eh ma come cazzo hanno fatto a vedermi così va giù va giù assist demolizione si però sono a 98 mi ho fatto i sedi tira eh lo so ma non ci riesco a arrivare 96 99 tre kill sono avanti tre kill sono avanti regate nooo si io l'avevo fatto bene vabbè fate 12 col cecchino stef l'avevo fatto bene fuck fuck fuck